Buongiorno, allora l'altra volta abbiamo fatto il presepe del panettone come tu c'era l'alizio, oggi vi propongo i tronchetti che sono molto carini, bisogna prendere un foglio di pan di spagna, se lo prendete già fatto, lo ordinate in pasticceria, è il meglio, perché è un po' complicato farlo, altrimenti se lo volete fare da soli, vi do la ricetta all'inizio della pagina, della pagina YouTube. Allora, prendiamo questo foglio di pan di spagna, prendiamo un po' di bagna, sarebbe acqua e zucchero, e bagniamo un po' con un pennellino tutto quanto il foglio di pan di spagna, non troppo perché sennò poi non si arrotola bene, una massadina leggera, così. Poi lo andiamo a farcire con la nutella, che io l'ho messa su un sacco a posto, voi potete tranquillamente spalmarla con una spalla. Fare prima i bordi, e a strisce così per a... così va dappertutto la nutella. Questo è un dolce di Natale, semplice da fare, ma è molto bello da farlo, anche come regalo, come pensiero a qualcuno. E con questi fogli si fanno anche i tronchetti della felicità, che dopo me ne faccio vedere uno che ha fatto, è molto più semplice di questo. Vediamo un altro po' di nutella. Nutella o cioccolata spalmabile, quello che vuole adesso. A questo punto si inizia a rotolare da qui, anche se si va un palenzio non fa niente, e poi va arrotolato. A metà si ripagna un pochino, si continua a girare fino alla fine. ecco qua. Un'ultima bagnadina. Ecco qua. Tagliamo i bordi ai lati. Ok. Allora, noi abbiamo fatto il rotolo. Rotolo o salame del re, anche si chiama. Lo tagliamo a metà. Questo già, se uno si mette un po' di zucchero a velo sopra, già potrebbe andare bene, così come il rotolo. Però noi dobbiamo fare i tronchetti di Natale, quindi andranno grassati con la cioccolata, con la cioccolata acquagliata a bagnomaria e con un pennellino. Il pennello serve per fare le ricature proprio come un tronco vero. e adesso, senza grassarlo tutto, ho preparato, li ho preparati già grassati e ve li faccio vedere. Eccoli qua. Gli ho fatti di varie misure perché c'è un motivo. Allora, questi qua, già grassati, ci ho messo anche un po' di zucchero verde. Sarebbe zucchero semolato con un po' di colorante che si trova in tutti i negozi di pasticceria, ci ho fatto vedere anche nel presepe, che quando si sta per asciugare la cioccolata si si mette sopra e dà il senso del muschio, diciamo. Allora, adesso, una volta grassati, li andiamo a montare. Allora, prendiamo un pezzo così. Poi prendiamo un pezzo più piccolo. Lo attacchiamo con la cioccolata. Lo montiamo a nostro piacimento, o così. Poi un altro pezzetto. Lo metterei così. Lassiamo. E questi sembrano proprio i nodi dell'alberello, diciamo, del tronchetto. Se vogliamo, possiamo metterne anche uno sopra. Però poi mi sembra un po' troppo... o se no, sì, se possiamo mettere un altro pezzettino. Lo passiamo un po' più completo. Ci mettiamo un po' di zucchero a velo. per fare l'alberello. Poi, se uno vuole, lo può decorare con degli uccellini, si può mettere con dei funghetti fatti di meringa. Io adesso lo sto facendo semplice semplice per far vedere come si fa. Poi, il resto della decorazione sta alla vostra fantasia. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. E questo è il risultato finale del montaggio del tronchetto, per poi essere decorato a vostro piacimento. Dopo. Ciao.